Festival Francescano 2014 è bandita anche perché sembra spesso che nella vita della maggior parte delle persone questa Letizia non abbia luogo o si confonda o venga coperta nella letteratura, siccome la letteratura viene dalla vita delle persone dalla vita del tempo che si vivono certo di Letizia sembra di vederne poca, almeno in tempi molto recenti però proprio bisogna guardare bene e guardando bene ci si accorge che poi esperienze molto forti di legame con il significato dell'esistenza quindi di Letizia non perché le cose funzionano ma perché le cose vanno lette, vanno vissute dentro questo legame ce l'è Tu hai citato Dante e hai citato Leopardi due figure lontanissime nel tempo ma che su questo tema hanno dato degli spunti molto interessanti forse decisivi Dante, Leopardi, Ungaretti, Luzzi sai questo chiodo che Francesco ha messo all'inizio proprio della letteratura col Cantico delle Creature, con la sua esperienza continua a inquietare tutte le grandi voci della poesia quindi sarà sempre così non credo che appartenga solo al passato questa cosa anzi forse nel tempo crescerà questo e la letteratura non è solo il passato la letteratura è il presente nella letteratura contemporanea trovi diciamo spunti, riflessioni che stimolano questo tipo di riflessioni beh guarda uno dei più grandi poeti del Novecento solo per fare un nome era Betocchi Betocchi è uno che si rifà esplicitamente a Francesco nel colloquio con Betocchi sono cresciuti grandi poeti da Mari Luzzi a Pasolini da Nunzio stesso aveva questa ammirazione straordinaria questo dialogo da lontano con Francesco quindi anche nel contemporaneo ci sono molti segni di questa cosa molti